È riuscita a tornare a guidare, è riuscita a tornare a lavorare e adesso cercando addirittura di avere un figlio, quindi è bellissimo perché abbiamo proprio cambiato quello che è il suo modo di vivere, la sua qualità della vita. Buongiorno dottor Castellano, grazie per averci dedicato un po' del suo tempo oggi. Può descriverci il suo percorso professionale? Buongiorno, sono fisioterapista, mi sono laureato dieci anni fa in fisioterapia e dopo aver finito il percorso di studi in fisioterapia ho intrapreso una specializzazione in osteopatia e dopo aver finito osteopatia sono diventato anche applicatore di TauPatch ormai da cinque anni. Come hai conosciuto la nanotecnologia TauPatch? La conoscenza di TauPatch è stata casuale, un giorno mi sono trovato in studio un dentista siciliano il quale mi ha parlato di questi dispositivi magici, secondo lui, che avrebbero fatto il mio caso e mi avrebbero cambiato la professione. In realtà ero inizialmente un po' scettico, dopodiché ho intrapreso questo percorso meraviglioso e mi ne sono innamorato e devo dire che aveva ragione. Come ha la nanotecnologia trasformato la sua professione? TauPatch ha completamente modificato quella che è la mia professione. Con TauPatch non vedo più il paziente come solo dal punto di vista biomeccanico ma mi permette di andare a valutare il paziente da vari punti di vista. Quindi sì l'aspetto biomeccanico ma anche l'aspetto più elettrico del paziente, l'aspetto più metabolico, l'aspetto più emotivo e questo fa fare al terapista un grande salto di qualità che permette appunto di far stare il paziente meglio e stabilizzare maggiormente il suo risultato. Può descriverci una visita tipo? Certo, allora la visita tipo, la prima visita io la effetto in questo modo. Inizialmente faccio fare delle valutazioni strumentali che permettano di valutare il paziente come punto zero quindi prima di trattarlo sia da un punto di vista metabolico sia da un punto di vista elettrico che da un punto di vista posturale attraverso varie strumentazioni. Dopodiché il paziente effettua un'anamnesi che è importantissima per valutare poi il suo seguito dei vari trattamenti e una volta finita l'anamnesi si intraprendono una serie di test posturali che ci fanno capire dal punto di vista posturale appunto come sta il paziente. Quindi andiamo a vedere la simmetria delle spalle, del bacino andiamo a vedere in che convergenza è il paziente vediamo dal punto di vista dell'equilibrio come sta vediamo dal punto di vista della forza come sta e sono tutti dei parametri che poi incrociati ci danno un'idea di come poter poi andare a trattare il paziente. Quanti pazienti ha visto fino ad oggi? Ad oggi in cinque anni che applico TopHatch ho visto tantissimi pazienti direi quasi più di 3-400 e se inizialmente TopHatch era una delle tecniche che utilizzavo nel mio studio adesso è la tecnica principe cioè io adesso parto con TopHatch che mi aiuta sia a fare un trattamento più veloce col paziente ma anche a fare diagnosi perché nel momento in cui io con TopHatch applico TopHatch vedo un cambiamento nel paziente mi aiuta a capire che questo paziente è un problema posturale, è un problema che fisioterapicamente o osteopaticamente posso trattare. Nel momento in cui con TopHatch non ci sono cambiamenti o il dolore rimane mi dà l'idea di dover fare magari delle valutazioni più approfondite col paziente e quindi questo già in prima visita è molto importante e mi accelera quello che prima magari aspettavo dicevo vediamo come va per poi nel caso andare a fare degli esami strumentali invece adesso subito mi permette di valutare. Oltre a questo è molto importante perché mi accelera quelli che sono i tempi di recupero e mi stabilizza i risultati tra una seduta e un'altra e per un osteopata vi posso garantire che è fondamentale questo. Quali sono stati i casi che le hanno dato più soddisfazione? Beh ci sono tantissimi casi fenomenali che inizialmente soprattutto rimane via bocca aperta perché dici cavolo come ho fatto soltanto applicando questi due dispositivi a raggiungere un obiettivo così grande. Potrei parlarvi di tantissimi pazienti forse quelli che ho più nel cuore sono due uno è una signora ragazza di 35 anni che aveva dovuto abbandonare il lavoro perché soffriva di una sindrome di Meniere che è una sindrome vertiginosa molto importante per cui gli era impossibile guidare la macchina, andare a lavorare aveva vertigi, nausea ogni giorno improvvisamente senza nessun preavviso. Applicando i dispositivi, facendo vari trattamenti, cambiando proprio il suo stile di vita siamo arrivati a distanza di un anno, un anno e mezzo che lei non ha più questo tipo di sintomatologia è riuscita a tornare a guidare, è riuscita a tornare a lavorare e adesso sta cercando addirittura di avere un figlio quindi è bellissimo perché abbiamo proprio cambiato quello che è il suo modo di vivere la sua qualità della vita. Un altro caso che ho nel cuore sono dei ragazzi disabili che vedo che anche loro nascono con della disabilità non riescono a fare tantissime attività, non riescono a fare niente e dargli anche soltanto un cambiamento dal punto di vista della postura, dell'equilibrio riuscire a permettergli di essere più autonomi anche di un 10% è poco ma per loro e per la loro famiglia è tantissimo e quindi ogni volta che riesco a lavorare con loro per me è fenomenale. Cosa direbbe ad altri professionisti del settore medico che vorrebbero adottare la metodologia Taupec? L'idea è di venire a fare dei corsi perché hanno già aspettato troppo li cambia il modo di lavorare, di provare, di provare, di provare applicare i dispositivi su ogni persona e vedere cosa succede vedere cosa succede perché se guardano con gli occhi di un bambino ogni paziente scopriranno che davvero ottengono dei risultati che senza sarebbe davvero difficile o quasi impossibile. Quali corsi sono stati più formativi per lei dopo il modulo base? Premetto col dire che tutti i corsi sono stati molto formativi e molto interessanti i due corsi che ho forse nel cuore sono il neuropostural e il biohacking il primo perché essendo fisioterapista osteopata partire da una valutazione posturale che mi permetta di capire quali sono i recettori posturali che vanno in disfunzione e grazie alla tecnologia, l'anotecnologia andare a tamponarli o comunque a riequilibrarli è fenomenale e fondamentale. Questo mi ha fatto fare secondo me dal punto di vista proprio professionale un grande upgrade che necessitava la mia formazione. il secondo corso di cui dicevo prima quindi il biohacking invece mi è stato utile in un altro verso nel senso che avere un'idea, una formazione anche su quelli che possono essere gli stili di vita che il paziente può adottare per stare meglio era un qualcosa che fino a a quel tempo non avevo mai pensato, non avevo mai valutato e devo dire che invece mi ha fatto fare sempre un grande salto di qualità perché anche piccoli gesti, piccole cose che magari per noi sono scontate per un paziente non lo sono e quindi avere delle piccole idee, dei piccoli consigli da dare al paziente fanno fare davvero un grande cambiamento nel paziente e un grande salto di qualità. Lei è formatore ufficiale TaoPatch e tutor, come l'ho diventato? Beh è stato un bel percorso, inizialmente sono partito facendo tutti i corsi, frequentando più volte tutti i corsi e poi grazie a TaoPatch sono riuscito a diventare appunto tutor prima e poi anche formatore. È stato un percorso bellissimo che mi ha permesso di mettermi alla prova su tematiche che magari inizialmente non pensavo neanche di poter essere in grado di fare, di parlare alle persone, di poterli spiegare determinate cose e devo dire che però sono stato soddisfatto di quello che ho ottenuto ma contento e desideroso di potermi mettere ancora alla prova. Come sono state le prime esperienze da tutor? Molto, molto, molto formative. Cioè devo dire che è molto importante per me sia dal punto di vista professionale vedere come lavorano, come pensano anche i miei colleghi e quindi poterli aiutare nel migliorare ma anche per me è formativo allo stesso tempo perché ti permette di confrontarti con altri professionisti e scambiarsi delle opinioni e vedere un pochino come lavorano, come ragionano, come impostano il loro pensiero durante le loro attività. Lo scorso anno ho avuto la fortuna di andare in Bulgaria insieme a Fabio a tenere il corso TaoPatch, il modulo in agopuntura, nel quale ho avuto la possibilità di incontrare tantissimi professionisti molto validi, tra cui tantissimi neurologi primari anche di ospedali in Bulgaria, che mi hanno permesso di fare conoscenze importanti e non vedo l'ora di poter andare in altre parti del mondo insieme a TaoPatch per crescere ancora come professionista e interfacciarmi con queste persone straordinarie. Grazie mille per il suo tempo. Grazie a voi.